Siamo a pieno titolo cittadini dello Stato, ma siamo creati immagini di Dio e apparteniamo anzitutto a Lui. Per questo dobbiamo vivere riconoscendo questa appartenenza e nella riconoscenza del cuore verso il Padre. Papa Francesco lo ha ricordato prima della preghiera dell'Angelus recitata dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico, commentando il Vangelo di questa domenica con la domanda trappola dei farisei a Gesù sul tributo a Cesare. Rispondendo rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, Gesù, ha spiegato il Papa, dichiara che pagare le tasse è un atto dovuto all'autorità terrena, ma poi richiama il primato di Dio, Signore della vita e dell'uomo e della storia e ricava dalla domanda dei farisei un interrogativo vitale per ciascuno di noi. A chi appartengo io? Alla famiglia, alla città, agli amici, alla scuola, al lavoro, alla politica, allo Stato? Sì, certo, ma prima di tutto ci ricorda Gesù, tu appartieni a Dio. Questa è l'appartenenza fondamentale. È Lui che ti ha dato tutto quello che sei e che hai. E dunque la nostra vita, giorno per giorno, possiamo e dobbiamo viverla nel riconoscimento di questa nostra appartenenza fondamentale. È nella riconoscenza del cuore verso il nostro Padre che crea ognuno di noi singolarmente, irrepetibile, ma sempre secondo l'immagine del suo figlio amato Gesù. È un mistero stupendo. Quindi, ha concluso Francesco, il cristiano è chiamato a impegnarsi concretamente nelle realtà umane e sociali senza contrapporre Dio e Cesare, che sarebbe un atteggiamento fondamentalista, ma illuminando le realtà terrene con la luce che viene da Dio. Affidarsi prima di tutto a Dio non è una fuga dalla realtà, ma rendere operosamente a Dio quello che gli appartiene. Il credente guarda la realtà futura, quella di Dio, per vivere la vita terrena in pienezza e rispondere con coraggio alle sue sfide.